Ivana Mrazova difende Ignazio Moser e attacca Soleil Sorge Ivana Mrazova difende Moser, i due scherzavano sempre. . Si torna a parlare ancora una volta di Ivana Mrazova. La modella dopo la fine del grande fratello Vip ha lasciato il fidanzato. In molti hanno pensato che la sua decisione sia di pesa dallintesa nata con Luca Onestini nella casa più spiata dItalia. . In un'intervista rilasciata a Fanpage.it lei stessa ha confessato che aveva capito che i suoi sentimenti per Alessandro erano finiti già un mese e mezzo fa. . Ha poi puntualizzato che non l'ha lasciato per un altro. . Durante il reality Ivana sembrava esserci rimasta male per le battute di Ignazio Moser sul suo peso. . La Mrazova ha approfittato dell'intervista per smentire la cosa, dicendo che si trattava solo di uno scherzo. . . La frecciatina di Ivana per Soleil sorge. . Intanto, in molti vorrebbero vedere insieme Luca Onestini e Ivana Mrazova. . In merito a ciò la modella ha detto che sarà il destino a decidere per loro. . Di certo l'intesa tra i due continua ad essere molto forte ed evidente. . . Nell'intervista l'ex Jeffine ha lanciato una frecciatina su Lei il sorge, ex fidanzata di Luca. . A quanto pare Ivana non ha apprezzato il comportamento della ragazza, ha infatti dichiarato, di lei non mi è piaciuto come si è comportata, né il modo in cui ha parlato male della famiglia di Luca. . . La Mrazova ha poi detto di non essere abituata a gareggiare con altre donne, anche in questo caso non pensa di doverlo fare. .